ancora siete indecisi su che regalo fare per natale volete sorprendere il destinatario del dono con un presente ben pensato ma non sapete quale prodotto scegliere per andare a colpo sicuro nel video di oggi troverete la risposta a queste domande signori bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale sulla scia del primo video di questo filone pubblicato domenica scorsa quest'oggi in collaborazione con fantasia store scopriremo la bellezza di quattro ulteriori idee regalo che potranno tornarvi utili se ancora non avete idea di cosa comprare per questo natale come al solito procederemo per fasce di prezzo partendo dall'opzione più economica a quella più dispendiosa analizzando i diversi prodotti proposti che sono certo rappresenteranno un valido acquisto da donare a chi vorrete prima di iniziare se volete acquistare i prodotti del vostro gioco di carte preferito o gli accessori che renderanno unica la vostra esperienza ludica vi consiglio di visitare fantasia store dove troverete un catalogo fornitissimo di prodotti pronti a soddisfare ogni vostra singola richiesta in descrizione troverete il mio referral link che potrete utilizzare per i vostri acquisti in più per ogni acquisto che farete potrete beneficiare anche di un ulteriore sconto del 5 per cento su ogni carrello ogni volta che vorrete inserendo il codice crogiolo 5 utilizzando il referral link aiuterete anche il canale a portare sempre nuovi contenuti innovativi che tratteranno argomenti riguardanti i vari gcc e se effettuerete l'ordine entro mezzogiorno la consegna sarà a casa vostra in 24 48 ore cosa state aspettando se cercate i migliori articoli fantasia store sarà la risposta in più volevo invitarvi ad iscrivervi al canale dato che molti di voi guardano i video dell'arconte del crogiolo ma non avete ancora cliccato sul pulsante iscriviti pensate che se tutti voi lo faceste ora potremmo raggiungere oltre i 10.000 utenti quindi il vostro supporto è fondamentale datemi una mano a far crescere la community basta un singolo clic ed ora scopriamo assieme quali saranno le quattro idee regalo per natale 2022 fantasia store edition andiamo a dargli un'occhiata il token silo della game genic sarà la prima opzione che potrà rappresentare un dono più che gradito a quei giocatori che fanno o faranno largo utilizzo di segnalini durante le loro lunghe sessioni di eventi amichevoli e organizzati il prodotto interamente costruito in polipropilene possiederà misure pari a 212 mm di lunghezza 166 mm di larghezza e 32 mm di altezza e riporterà il logo della casa produttrice sia al centro del coperchio che nella parte inferiore dell'accessorio in quest'ultimo caso indicando anche a chiare lettere il nome della casa madre in rilievo il coperchio in materiale plastico trasparente che fungerà anche da rivestimento esterno sarà agganciato a quattro dentellature due per lato che avranno funzione bivalente infatti una volta che avrete tolto la copertura essa potrà essere posta nella parte inferiore dell'articolo andando ad agganciare gli appositi fori di forma rettangolare prefabbricati nelle già menzionate dentellature incorporate con la struttura principale del prodotto garantendo più spazio da dedicare sul tavolo da gioco agli elementi essenziali che il vostro tcg preferito richiederà quello che ho notato fin da subito è stata la chiusura filo scatola ciò starà a significare che non dovrete preoccuparvi che il coperchio andrà ad agganciarsi a qualche fonte esterna qualunque essa sia aprendosi accidentalmente andando di seguito a versare a terra tutto il contenuto accortezza non da poco e bravi signori della game genic il contenuto del silo prevedrà di base nove compartimenti di diverse dimensioni rispettivamente quattro di piccola taglia con misure pari a 46 mm di lunghezza 36 mm di larghezza e 24 mm di altezza altrettanti di taglia media con misure pari a 96 mm di lunghezza 36 mm di larghezza e 24 mm di altezza ed un solo spazio di taglia grande con misure pari a 96 mm di lunghezza 76 mm di larghezza e 24 mm di altezza che all'occorrenza potrà ospitare altri token o addirittura un numero variabile di carte che potrà partire da un minimo di 40 elementi con bustina singola fino ad un massimo di 75 senza bustina a seconda della necessità del giocatore ogni singolo spazio potrà inoltre essere rimosso singolarmente e posizionato sul tavolo di gioco per facilitarne l'accesso ai giocatori intenti a svolgere un match trasformando la struttura principale dell'articolo in un comodo lanciadadi con dimensioni pari a 200 mm di lunghezza 166 mm di larghezza e 26 mm di altezza ed una volta che la sessione ludica giungerà al termine potrete riporre nuovamente ogni scompartimento all'interno dell'accessorio chiudere con il coperchio per portare sempre con voi ogni singolo elemento che potrà tornarvi utile durante i numerosi match che affronterete se ne comprerete più di uno inoltre potrete impilarli con facilità possedendo degli appositi spazi che ne consentiranno il processo in modo semplice compatto ed ordinato ultima informazione ma non per importanza potrà essere reperibile in mercato in diverse tonalità di colore il token silo della game genic sarà venduto ad un prezzo indicativo di 14 euro e 99 ossiederà un coperchio che una volta tolto andrà ad agganciarsi nella parte inferiore dell'accessorio evitando che spazi preziosi sul tavolo da gioco vadano sprecati al suo interno potrete trovare nove vassoi rimuovibili di tre dimensioni diverse uno di essi il più grande oltre che ai token potrà ospitare al suo interno un numero variabile di carte fino ad un massimo di 75 senza bustina protettiva potrete utilizzare come un comodo lanciadadi la struttura principale dell'articolo una volta rimossi tutti gli scompartimenti una volta che avrete terminato la vostra sessione ludica il coperchio andrà a combaciare perfettamente con la scatola garantendo una chiusura a filo mantenendo il contenuto del silo al sicuro da aperture accidentali dovute da fattori esterni che andrebbero ad interagire con il coperchio stesso se ne avrete più di uno in vostro possesso grazie al suo design riuscirete ad impilarli facilmente ottenendo una soluzione compatta ed ordinata sarà disponibile in mercato in diverse tonalità di colore che potranno essere abbinate tra loro dando alla luce mix personalizzati del proprio silo questo gioiellino mi ha stupito in positivo e di certo ne sentiremo ancora parlare in dei video futuri che arriveranno presto sul canale e che sono sicuro rappresenterà un validissimo presente da donare a chi vi sta a cuore bello, pratico, funzionale passiamo ora alla prossima idea regalo restando sempre in casa gamegenic dalle quali fucine è stato forgiato un articolo che sono certo sorprenderà ogni giocatore, collezionista e non per la sua fattura di qualità lo zip up della gamegenic rappresenta, parere strettamente personale uno dei migliori album presenti in mercato costruito in superficie con materiale nexofiber riporterà unicamente il logo e il nome della casa madre incisi a chiare lettere nella parte frontale non presentando alcunché sulla parte dorsale per accedere all'interno dell'album dovrete utilizzare una zip con pratica linguetta in materiale plastico rigido sulla quale sarà riportato il nome dell'azienda che una volta fatta percorrere lungo tutta la cerniera vi mostrerà le 20 pagine con 24 buste ciascuna raggiungendo, svolgendo una semplice operazione matematica un numero massimo di 480 carte che potranno essere contenute in questo accessorio le carte sia di formato standard che Japanese potranno essere inserite nell'apposito spazio dedicato a caricamento laterale saldate a caldo sia se esse saranno prive di bustina protettiva fornite di inner sleeve con bustina protettiva o in doppia bustina la conformazione delle pagine farà sì che queste ultime risulteranno perfette per ospitare collezioni composte da 4 carte mostrando in modo ordinato e chiaro i vostri playset la fodera interna a differenza dell'esterno vedrà un materiale in microfibra della stessa tinta dell'album mostrando cuciture finemente realizzate che andranno ad unire la parte frontale e dorsale del prodotto con la zona di rilegatura stesse cuciture che saranno presenti anche all'esterno ma la cosa che più colpirà di questo articolo sarà la rigidità a massimo carico infatti grazie al supporto inflessibile all'interno del corpo principale dell'album una volta che avrete inserito la vostra collezione nelle tasche come nel mio caso nel quale ho custodito i 4 deck del super pre-release di One Piece mantenendo il prodotto in sospensione non si presenterà alcun fenomeno di deformazione né della parte anteriore che posteriore trattando di sicurezza invece qui si parlerà di un Fort Knox portatile infatti alle già presenti bustine ad inserimento laterale presenti sulle pagine ci sarà anche la zip che andrà a sigillare il tutto non permettendo neanche ad un singolo granello di polvere di entrare all'interno della struttura ciò conferirà di sicuro una lunga vita alla vostra collezione che custodita tra i fogli a 24 tasche dello zip up manterrà intatta il suo valore lo zip up della game genic verrà venduto ad un prezzo indicativo di 36 euro e 99 conterrà 20 pagine con 24 tasche ciascuna a caricamento laterale ospitando un numero massimo di 480 carte di formato sia standard che Japanese sarà presente una cerniera con zip e linguetta di design che permetterà di accedere all'interno dell'album in modo semplice sarà un'ottima soluzione per mantenere in modo ordinato e chiaro i playset del vostro TCG preferito essendo ottimizzato anche per carte a doppia busta costruito con materiale nexofiber in superficie e microfibra interna prevedrà un supporto rigido integrato nella struttura che non permetterà flessioni andando ad evitare deformazioni delle parti frontale e dorsale mantenendo al sicuro la collezione al suo interno non conterrà né acidi né tracce di PVC uno degli articoli di questa categoria migliori presenti attualmente in mercato che vi garantirà sicurezza e quel tocco di classe che per una collezione di prestigio non sfigurerà mai e a proposito di raccolte il prossimo prodotto sono certo che risulterà essere molto gradito per chiunque faccia dei box di espansione un punto cardine della propria collezione il booster box display della Ultra Pro sarà il contenitore perfetto per esporre al meglio i vostri articoli più rari la teca che garantirà protezione a 360 gradi grazie allo spessore delle sue pareti potrà contenere al suo interno delle scatole di formato Pokémon avendo dimensioni interne pari a 125,75 mm di altezza 140 mm di larghezza e 78,25 mm di lunghezza completamente costruita in materiale acrilico questa confezione sarà totalmente trasparente su ogni lato superiore ed inferiore compresi così da mostrare indipendentemente dall'angolazione il suo contenuto con l'unica eccezione fatta per la parte frontale dell'articolo dove in basso a destra troverete in piccolo inciso al laser il logo della casa madre per inserire il box al suo interno vi basterà sganciare il coperchio il quale possiederà una serie di magneti disposti su due gruppi da tre sulla parte superiore sinistra e destra una volta portato a termine il compito non vi resterà altro da fare che chiudere il display lasciando che le calamite facciano il loro lavoro andando a sigillare la confezione mantenendo al sicuro il contenuto da fattori esterni che potrebbero comprometterne l'integrità a causa di cadute o urti accidentali e Arconte va tutto bene ma di solito quando si parla di oggetti trasparenti va sempre a finire che i raggi UV penetrando vadano ad ingiallire la superficie della scatola del box tranquilli la Ultra Pro ha pensato anche a questo conferendo al materiale che compone l'intera struttura una capacità di protezione del 66% ai raggi ultravioletti quindi di sicuro non sarà cosa facile modificare la tonalità del box che desidererete includere nel display inoltre una volta che il prodotto sarà arrivato a casa vostra saranno presenti nella scatola dell'articolo anche un panno brandizzato Ultra Pro che potrà tornarvi utile per pulire la superficie della teca in modo tale da mantenere sempre in ordine il tutto ed una serie di gommini di silicone 4 per l'esattezza che potrete incollare sulla parte bassa dell'accessorio ottenendo così facendo dei comodissimi piedini che manterranno sollevata l'intera struttura il booster box display verrà venduto ad un prezzo indicativo di 40 euro potrà contenere al suo interno box di espansione di formato pokemon quindi con misure che si aggireranno attorno a quelle che sono state menzionate precedentemente durante la descrizione del prodotto le pareti spesse di questo accessorio offriranno protezione a 360 gradi da urti e danni provenienti da fonti esterne interamente costruito in materiale acrilico offrirà in più un fattore di protezione pari al 66% dai raggi UV che potrebbero con il tempo ingiallire la scatola in essa contenuta presenterà una chiusura magnetica che garantirà un'ermeticità di ottima tenuta isolando completamente dall'esterno il box nella scatola inoltre potrete trovare un panno brandizzato per pulire la superficie e dei gommini in materiale siliconico che fungeranno da piedini andando a sollevare l'intera struttura anche in questo caso il display non conterrà né acidi né tracce di PVC un vero e proprio must have per tutti i collezionisti che non hanno ancora messo al sicuro il loro tesoretto personale accessorio utilissimo per tutti coloro che collezionano box e a proposito di box scopriamo assieme quale potrà essere la quarta ed ultima idea regalo per questo Natale 2022 un box da collezione di certo sarà un regalo più che gradito essendo sia per i giocatori che per i collezionisti una delle fonti principali della propria raccolta qui ho un box di Flesh and Blood del set Welcome to Raid che per gli appassionati di Fab di certo rappresenterà un dono più che gradito ma potrete scegliere tra decine di articoli diversi sul sito Fantasia Store dove troverete box di espansione riguardanti anche il mondo di Pokemon Magic the Gathering, Yu-Gi-Oh! Digimon e molto altro ancora potrete trovare in descrizione attraverso i link che vi ho lasciato sia ogni sezione dedicata ai box da collezione sia i link che vi riporteranno alle pagine dei primi tre accessori che quest'oggi abbiamo trattato assieme ed ordinandone i prossimi giorni la consegna verrà garantito dalla stessa Fantasia entro Natale e voi quale di questi prodotti deciderete di donare ai vostri amici o parenti? come sempre fatemelo sapere nei commenti mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG vi ringrazio di essere stati in mia compagnia noi ci vediamo al prossimo video